E' uscito! E' uscito finalmente il trailer dell'ultima cavolo di stagione di Game of Thrones! Era ora! Ciao a tutti, sono Francesco, scusate la postazione strana ma stavo girando un altro video. E fortuna vuole che non avevo ancora smontato le luci, quindi... Ma basta cavolate, guardiamo sto video perché sono tipo... non lo so... sei anni che lo aspetto? Sette? Ok, tre, due, uno... Aria... Ok, ma non ci vedo niente... Cosa ha fatto all'occhio? Davos, grande inverno... Da cosa stai scappando? Varys... Basta, Aria! Vetro di drago... Ok, Aria... Mi sa che sarà cazzuta ma temo che morirà Brienne, comanda una flotta... Cosa, non Toros, l'altro... Ma perché a Prododerre... Figa, Cersei... Sei fantastica, viva Cersei... Eh... Qui la fanbase gioisce... Ah... Sansina che vede i draghi, cara lei! Io sono Sansa per il nord... Sti sguardi languidi, del cavolo! Carini... Che be... Allora è la storia d'amore più bella! Che cavolo ti ridi? Ok, non ho visto se c'era Jon Snow però... C'è... Ok... Podrick... Va... Bomba! Aspetta, c'è ancora qualche secondo... No, dai dimmi che c'è un'altra scena dai dai... No, HBO... Ok, finito... Si può dire che mi è piaciuto? È forse il primo trailer di qualsiasi stagione di Game of Thrones che mi piace... Perché ci può vedere più o meno solo quello che già sapevamo... Ehm... Volevo fare un video totomorte... Però ho visto che lo stavano già facendo praticamente tutti... Ho detto che cavolo sono io... Però... Però io ovviamente ho dei personaggi preferiti e... Quasi sicuramente tutti i miei personaggi preferiti moriranno... Sono abbastanza sicuro di questo perché... Uno è Cersei... E Cersei ormai è... Ha tipo il cappio intorno al collo dall'inizio della serie... Per la profezia, eccetera... Daenerys sono quasi sicuro che morirà... Purtroppo... E ho paura che Jon prenderà il posto sul trono di spade... O meglio diventerà una specie di presidente... Quando verrà instaurata la democrazia... Sì, io sono un po' di quel team che pensa che il trono di spade verrà distrutto per sempre... Che non ci sarà più la monarchia... E poi Jon Snow... Spoiler... Ma non credo che sia il caso di dire allerta spoiler... Aegon Targaryen è effettivamente a Song of Ice and Fire... Perché è figlio di Rhaegar, che rappresenta il fuoco... E di Lyanna, che rappresenta il ghiaccio... Quindi sono quasi sicuro che lui sarà quello che la scamperà... E Daenerys partorirà forse... Perché non si sa se sia incinta o meno... Ma è ovvio che è incinta... E... E fine... Arya invece, secondo me, sarà cazzutissima... Fino ad un certo punto... E poi schiatterà... Ma male, male, male... E Sansa erediterà al nord... Più che altro sono abbastanza fondate tutte queste teorie... Non sono miei personali... Però leggendo i libri... Vedendo 10 milioni di video sulle teorie... Credo di aver capito dove andranno a parare... Ormai non me ne frega più tanto che vada di pari passo con i libri... Perché il rispetto che avevo per George Martin continua a calare di anno in anno... Capisco che i fan abbiano delle aspettative altissime... Che è difficile soddisfare... Però non stai lavorando... Stai facendo 10 mila progetti... Che non c'entrano niente con Game of Thrones... Quindi... George, mi dispiace... Ma non ti ho più nel cuoricino... A parte questo, devo ammettere che l'hype... Che è stato congelato per un anno e mezzo... È tornato... Secondo me la campagna marketing per la scorsa stagione... È stata decisamente più azzeccata... Qua a Milano ovunque c'erano eventi a tema Game of Thrones... C'era allo sforzesco... Avevano messo un gigantesco Drogon... C'erano personaggi in cosplay... Avevano proiettato la prima puntata della stagione... Invece quest'anno vedo solo le pubblicità di Sky... Delle vecchie stagioni... Quindi... Non lo so... Ma... Ma questo è un trailer ben confezionato... Tra l'altro me lo riguarderò 150 volte... Per riuscire a capire tutto quanto... E nel frattempo discutiamone nei commenti... Ditemi che cosa vi aspettate da questa stagione... Perché io non credo che mi stupirò tanto... Non so quanti assi nella manica... Possono ancora avere Beniof e Wise... Quindi come al solito... Io vi ringrazio per aver guardato questo piccolo video... E noi ci vediamo alla prossima... Ciao! Ciao! Grazie a tutti.